Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi sono qui per fare un video un po' cazzeggio ma soprattutto un po' spiegazione che vi permetterà di fare una rapina al treno immediatamente, facilmente, incorrendo nei minimi problemi possibili senza che la legge vi dia fastidio e insomma sostanzialmente come rapinare un treno nel modo perfetto Beh raga, sono qui all'accampamento, la prima cosa che dobbiamo fare naturalmente è lasciare un bellissimo like a questo video per supportarmi dopodiché farmi sapere se voi applicherete questo metodo qui sotto nei commenti ed iscrivervi se non siete alcuni iscritti inoltre se volete condividere il video su voi social, detto questo direi di iniziare signori ecco qua, allora, innanzitutto dobbiamo cambiarci i vestiti e ora vi spiego perché per il semplice motivo che dobbiamo mettere nel cavallo, non so se lo sapete ma si possono mettere nel cavallo diversi vestiti ecco allora quindi andiamo su abiti, andiamo su abiti sul cavallo insomma e ci mettiamo degli abiti per poter cambiarci e scambiarci nei momenti in cui insomma ci servirà e ve lo dirò io una volta che abbiamo inserito comunque degli abiti, bastano tre abiti o comunque due l'importante è che comunque non si vadano a perdere ecco vabbè, ritorniamo al cavallo e ora vi spiego cosa fare in sostanza dobbiamo andare al garage, vabbè alla stalla e beh quel cavallo, che è il nostro cavallo principale, non lo dobbiamo usare siccome questa rapina va pianificata, non è una rapina a cacchio insomma è una rapina davvero pianificata come se ci stiamo immergendo nel mondo di gioco davvero molto bene dobbiamo usare un altro cavallo in modo che non ci conosceranno tramite di esso insomma tramite il cavallo anche i vestiti vi ho fatto prendere e mettere sul cavallo per il semplice motivo che appunto li cambieremo in modo da non farci insomma sgamare quindi li cambieremo a seconda delle venienze ecco beh quindi andiamo alla stalla che io ho qui praticamente un cavallo qualsiasi che non usiamo di solito beh il cavallo in questione mi ha già preso questo qua tennis walker un altro requisito che avete bisogno necessariamente è che andando sul cavallo dovete avere delle maschere io vi consiglio la maschera, boh, maschera sacco di tela o maschera cappuccio del boia che è tanta roba bene la prossima cosa da fare in sostanza è quella di andare a una stazione ferroviaria che siamo appena arrivati beh non dobbiamo fare altro che acquistare un biglietto per una determinata stazione un determinato luogo specifico che ora vi dico ora in sostanza io voglio pagarmi la taglia così da eliminarmi tutti i possibili rompipalle quindi non vi preoccupate è semplicemente per roba mia voi se avete o non avete la taglia potete comunque farlo lo stesso non è un problema ecco quindi compriamo un biglietto ferroviario e lo compriamo per la stazione di Riggs Riggs è importante ok siamo arrivati alla stazione di Riggs quella che ci importa, quella che ci interessa appena arrivati dobbiamo scendere immediatamente dal treno è perché appunto dobbiamo fare una determinata cosa ora vi faccio vedere ora scendiamo immediatamente dal treno avviciniamo il cavallo qui e dobbiamo quindi immediatamente cambiarci i vestiti mettere un vestito qualsiasi che ci piace di più magari ecco ecco me ne sono messo uno uguale praticamente bene ok questo dovrebbe essere diverso perfetto ok dopodichè metterci la maschera la maschera del boia quello che vi consiglio io ora dopo vi spiego anche come prendere questa maschera tranquillamente si compra da qualche parte ora salite qui su questo coso qui che si trova proprio di fianco al treno e aspettate la partenza del treno in sostanza non prima perché appunto dobbiamo saltare sul treno non appena parte mi raccomando non prima perché altrimenti vi verrete segnalati insomma delle guardie e quant'altro appena insomma il treno parte ci saltiamo sopra ecco sta partendo il treno ok corriamo bene siamo sul treno ok ora ci accovacciamo perché magari così da non farci vedere e quello che dobbiamo fare in sostanza è andare vicino insomma alla al come cacchio si chiama al macchinario che oddio no questa cosa non devo farla speriamo che nessuno se l'ha accorto bene e praticamente dobbiamo stoppare il treno lì in sostanza sul ponte quindi aspettiamo un attimino che arrivi sul ponte bene buttiamo via il come cacchio si chiama il macchinista in questo caso siccome ho sbagliato un attimino facciamo andare ancora avanti un pochettino il treno sì ottimo fermiamo il treno praticamente sul ponte intanto ci stanno già sparando ma tranquilli sono le persone che le guardie del treno ma nulla di che dobbiamo semplicemente fare fuori tranquillamente non è questo il problema sicuramente ecco il crimine è stato già segnalato ma in realtà poteva già venire in passato cioè già nel momento in cui eravamo sul treno ma non è un problema infatti sta andando tutto nei piani insomma mi dispiace appunto che sto facendo il video durante la notte che potrebbe non vedersi molto bene ma tutto il resto ok beh quindi ok abbiamo praticamente fatto fuori un bel po' di persone intanto lì in alto ci hanno già insomma spottati non so come hanno fatto ma comunque questo è il modo migliore ora vi spiego perché in sostanza siamo sul treno e nessuno ci cagherà il cacchio insomma ci darà fastidio perché le persone che insomma come si chiamano gli uomini di legge non riusciranno a venire qui vedete rimarranno bloccati sotto sotto al ponte infatti non riusciranno a salire sul ponte verranno bloccati lì come dei mongoloidi quindi beh noi abbiamo praticamente tutto il tempo a nostra disposizione per rubare e prenderci la roba insomma raga dovete anche avere delle dinamiti se non le avete procuratevele che se no sarà un po' difficile per voi io ne ho portate solo 5 speriamo che bastino e ora vi spiego le dinamiti dovete usarle praticamente per la cassaforte che in realtà potrebbe anche aprirsi in un altro modo ora vi faccio vedere sempre se insomma riesco o sempre se funziona ancora se avete il tomahawk insomma lascia se voi la lanciate doveva aprirsi vabbè era un bug che avevo scoperto così a quanto pare non funziona più ok in sostanza dovete prendere la dinamite e piazzarla insomma qui come cacchio si fa a piazzare credo oh ho fatto una cagata ok va bene credo che ha funzionato lo stesso no non ha funzionato ok abbiamo preso ah abbiamo preso il tomahawk bene o male ah no praticamente si è aperta la cassaforte ma è un bug visivo che insomma non si è aperta ok va bene si è buggato un po' di roba quindi vediamo qua che cosa c'è porta monete ci sarà la qualcosa è così voi prendete sempre qualsiasi cosa perché alla fine è sempre buono ok dovete praticamente prendere la dinamite accenderla e metterla ok premere il tasto destro in sostanza senza mirare e poi innescare innescare e fuggire immediatamente oddio ok boom mamma mia ecco forse ci dobbiamo allontanare un po' troppo un po' di più ecco ok questa volta senza problemi abbiamo tutta la roba che ci interessa bene moneta manetta tanta roba io vi consiglio di prendere anche quando ci sono dei gioielli degli orologi perché appunto prendete quelle cose e le rivendete ok siamo arrivati al vagone dove ci sono i passeggeri derubiamo anche loro che ora vi dico in realtà loro cambiano ad insomma così casualmente possono esserci davvero tanti passeggeri o possono esserci davvero pochi possono essercene quindi boh prendiamo la roba anche dai passeggeri che ci daranno anche un bel po' di soldi dai 8 ai 16 dollari che non sono niente male moltiplicati poi soprattutto per i passeggeri che ci sono tra l'altro vi faccio notare che abbiamo solo 65 dollari d'italia e abbiamo fatto tutto tutto questo bordello perché ecco qui ci sono davvero un bel po' di passeggeri quindi credo che ci siamo fatti anche una cinquantina di dollari solo da questo vagone e non è per niente male ok pigiamoci tutti i soldi bene quanti cacchio di soldi che ci siamo a fare solo da questo vagone cioè dai civili si fanno addirittura più soldi del normale guardate quanti oggetti d'oro che ci stanno lasciando quanti soldi che ci stiamo facendo e noi abbiamo praticamente zero problemi perché non ci sono uomini di legge a darci fastidio ricordo proprio per questo appunto è un metodo che appunto vi permetterà di fare la rapina nel miglior modo possibile senza che gli uomini di legge ci diano fastidio ogni volta che faremo saltare in aria una cassa insomma una cosa qui ci aumenterà di 5 dollari la taglia ma nulla di che ok c'è l'orologio da tasca che non posso trasportare perché non posso prendere perché appunto ne ho troppi intanto se è buggato qui non mi fa camminare più ma va bene ah frughiamo nell'armadietto dalla scrivania e qui ci sono mazzette di banconote qui ci dovrebbero essere sempre le mazzette di banconote mentre qui non c'è un cazzo ok arrivato il momento nostro chiamiamo il nostro cavallo e in sostanza quello che dobbiamo fare è chiamare il cavallo e correre praticamente di là senza che magari ci facciamo ammazzare ah il cavallo è lì il cavallo è lì solo che praticamente si è buggato tutto e infatti ogni tanto il cavallo si si rincoglionirà cerchiamo di non cadere noi questa volta ok ho fatto una cazzata perché in sostanza ora vi spiego ok le persone ci stanno già sparando perché è giusto che ci sparano ma tanto sono ancora giù noi facciamo una cosa siccome il cavallo si è buggato e si potrebbero insomma rischiare un po' di cose soprattutto lì che non c'è la recinzione qui che c'è la recinzione chiamiamo il cavallo e arriverà da dietro in sostanza oppure scappiamo intanto scappiamo ma il cavallo arriverà in sostanza ecco ah hanno ferito il cavallo bene maledetto cavallo ma dove cacchio ah ecco appunto raga quello che vi stavo dicendo non è che hanno ferito il cavallo è proprio perché il cavallo è talmente stupido che si è buttato giù però facciamo una cosa noi noi fuggiamo così a piedi dovremmo riuscire a scappare e infatti si ci riusciamo ma la cosa che mi dà fastidio è che appunto il cavallo si è buttato giù con un ringoglionito e proprio per questo vi ho fatto prendere anche un altro cavallo perché così solo perdete è un cavallo secondario che magari non è quello vostro principale che voi adorate amiate e quant'altro ebbene appunto siamo fuggiti e la legge non ci darà più fastidio lì a sinistra ho visto un altro cavallo il problema è che noi abbiamo appena perso il cavallo in sostanza e abbiamo appena perso anche i nostri vestiti perché ci dovevamo ci dovevamo cambiare appena finita la rapina e questo diciamo un po' i problemi del mestiere sono gli inconvenienti del mestiere siamo fuggiti e ora possiamo anche cambiarci toglierci la maschera per farlo in questo caso mettiamo e togliamo la bandana scusate il problema è che se avessimo avuto il cavallo ora come ora ci potevamo cambiare i vestiti e nessuno saprà mai che è stato a rapinare a rapire quel treno ora voglio andare a salvare quel cavallo per portare a termine la missione sperando che non muoio io oddio oddio ok ci è mancato davvero poco sapete cosa ho sbagliato l'unica cosa che ho sbagliato facendo questo video che il treno l'ho fermato un po' prima dovevo fermarlo un po' dopo quindi io vi consiglio di farlo fermare in modo che quella recinzione insomma ricopra tutto il treno insomma perché se vi ricordate appunto dalla parte finale del treno non c'era la recinzione quindi ho rischiato di cadere anche io così come ha fatto il cavallo insomma rianimiamo il cavallo perché per fortuna un po' di roba ci cambiamo i vestiti e siamo praticamente irriconoscibili buona ora siccome il bottiglione non è stato praticamente venduto del tutto ok in sostanza dobbiamo andare al ranch emerald che si trova vicino alla stazione emerald quindi potete prendere qualsiasi treno e arrivare qui in questa esatta posizione della mappa in sostanza dove c'è appunto il ricettatore questo ricettatore in sostanza ci comprerà tutti gli oggetti che magari non ci servono quindi ci facciamo davvero un bel po' di soldi potremmo anche da lui quindi acquistare della roba che ci serve per fare la rapina come appunto la dinamite ne acquistiamo tutta e soprattutto quello che ci interessa sono le maschere come potete vedere possiamo acquistare le maschere raga la rapina è conclusa ci siamo fatti un bel po' di soldi ci siamo divertiti perché comunque fare la rapina in generale è davvero divertente è bello quindi raga spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bellissimo like fatemi sapere che cosa ne pensate insomma della rapina o tutto che cosa ne pensate del cavallo che si butta giù come un rincoglionito fatemi sapere se la farete anche voi detto questa raga noi ci vediamo al prossimo video vi invito quindi a lasciare un bellissimo like iscrivervi se non siete ancora iscritti condividere il video ovunque e noi ci vediamo al prossimo video raga e ciao ciao ciao